a livello intermedio il livello di martol dio mio sono quei sono quei personaggi che la disney faceva apposta per farteli detestare corri lino devi battere questa stronzetta questa stronzetta col triciclo devo alzare un po il volume però che poi noi perché passiamo per le fognature e lei invece va per la strada tranquillissima noi dobbiamo passare per gli scarichi fognari mentre lei invece se la passa liscia liscia no ok brava lillo che tra l'altro aspetta un attimo ok no volevo metterglielo davanti volevo bloccarla vabbè volevo sabotarla ok ho dovuto un attimo rallentare perché se no avevo paura che mi potesse in acqua bambina piedi batte bimba con triciclo allora so che voi non state vedendo questo pezzo di di cutscene però dovrei proprio rivederlo il film di lillo e stitch dovrei proprio rivederlo siamo ritornati a ale cala uuuh eccolo signor bubbles ehi ciao lillo non ho la voce da stupratore mai sei venuta in città da sola da sola ma ma se sono qui con stitch esatto si gli insegna a fare il bravo capisco allora perché non gli dai il buon esempio e torni a casa da brava certo signor smith va bene ora basta stitch dai il buon esempio Elvis Presley era un cittadino modello se ascolti i suoi dischi forse capirai andiamo li possiamo ascoltare dopo in albergo quale albergo ecco la bocca aperta stitch allora dove dobbiamo andare noi di qua raccogli 16 dischi allora ora dobbiamo passare da qui a qua sotto da qua sotto dobbiamo girare di sopra oppure tornare indietro sarà una scelta che dovremmo fare una volta arrivati lì il sentiero iniki chissà se davvero esistono tipo questi nomi alle hawaii cioè nel senso esiste davvero un sentiero che si chiama iniki per dire oh no ecco lo sapevo lo sapevo che era questo livello io li odio sti livelli sappiatelo io odio non poter vedere che cosa c'ho davanti lo odio tremendamente perchè poi non riesco mai a prendere tutti quanti gli oggetti alla prima botta oh calmo corri stitch ecco per esempio ho appena lasciato indietro un barile che conteneva delle tazze di caffè questo vuol dire che non siamo arrivati al 100% ecco e ora sono molto triste ecco qua dite che dovremmo usarlo il ecco lo sapevo l'abilità del triangolo per andare un attimo almeno più avanti magari ecco dopo questo dirupo la cosa buona è che l'abilità a forma di palla puoi usarla continuamente e stopparla quando vuoi ahia che male che sfiga aver mancato solo 5 stavo per farlo perfetto che nervoso per un barile delle palle l'ho mancato a 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